Salve a tutti, benvenuti a una puntata di questa serie su MLB The Show Con i nostri nationals che oggi affrontano L'uomo copertina di questo gioco Shoyotani Non lo conoscevo, sto leggendo adesso il nome L'ho fatto ricerca per capire che proprio lui E' proprio l'uomo copertina di MLB The Show 2022 Eeeh, vediamo Lui a quanto pare, l'ho detto a voi nei commenti Eeeh, diciamo E come posso dire, grandissimo Fortissimo come lanciatore e anche come battitore E quindi, e quindi, e quindi E quindi, semplicemente e quindi Allora Adesso, visto il loro Loro contrappon... al loro... Cioè, noi dobbiamo contrapporre il meglio possibile E questo è il meglio possibile In questo momento Non può essere che Strasburg Eeeh, facciamo qua Le cose automatiche E andiamo Chi sono? Eeeh... Non c'è sotto Donovan che ti ha posto di sotto Vabbè, giustamente Il po' il ragazzo prima o poi dovrà anche riposarsi Vabbè, comunque Eccolo qua Shoyotani Eeeh... Eeeh... Tira fortissimo centrale Quanto vedo Va bene Ok 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 1, 2 Va bene Non sarà facile Non sarà facile per niente A proposito Di non sarà facile L'audio si sente? Ecco, si sente abbastanza? Penso e spero di sì Ok Dai Togliamo noi Poll 2, 2 Ok Ok Dobbiamo stare calmi Fai vedere 100 Eeeh... Una certa anche validità di potenza di tiri 3, 2 Ok Stiamo calmi Stiamo molto calmi Grazie arbitro Grazie arbitro Grazie arbitro Grazie davvero arbitro Fa veramente Tantissime grazie all'arbitro Comunque Eeeh... Camiteria Uo in prima base 0-1 Early E qua La semplice Uuuuh Ed è una valida Signori È valida È un'altra valida Prima di un base occupato Dai 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 Bravo al Cines E io adesso Donovan Casey Quando di solito c'era C'era sotto Questa assenza la Ci peserà tantissimo Mi sa In partita 0-1 Ok Stiamo calmi 1-1 Ok Stiamo molto calmi Tranquilli Stiamo molto calmi Tranquilli Eeeh 1-2 A me Avrebbe chiamato probabilmente Comunque strike Late Addirittura No Sbagliato Primo eliminato Primo eliminato Donovan Casey Che vabbè Ora Josh è bello O può fare bello Josh O può fare bello 0-1 0-1 O può fare bello O può fare bello Ok 1-1 Dai Calmi Stiamo molto calmi Vabbè Questa sarà comunque strike 0-1 1-2 1-2 Dai 2-2 Ok Tanto lasciamo Lasciamo Facciamo lanciare Facciamo lanciare tanto Facciamo stancare 3-2 The Japanese Babe Rat Ok Questa non la capisco Ma vabbè Non sono molto Addentro le cose Allora Oh Vabbè Ok Va bene Va bene Secondo eliminato Secondo eliminato Mi piace bello E qua sarà dura tanto Cesar Hernandez Quanto Late Vabbè 0-1 Ah yeah 1-1 Ok Calma Calma Andiamo a stare calmi Ok 2-1 Bene 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 Dai Dai Dobbiamo farlo lanciare Noi intanto rubare Basi E cercare Dove Dobbiamo farlo Stancare Il più possibile Dobbiamo farlo Stancare Il più possibile E' quello Il discorso Dobbiamo farlo Stancare Il più possibile 2-2 2-2 Era Poll Nel tempo 2-2 Calma Siamo calmi E' un'altra E' un'altra Che che Vabbè calmo Devo stare calmo Devo stare calmo Devo stare calmo Devo stare calmo Presto Presto Eh Very early Infatti No L'ho visto subito Ok Vabbè Non sto continuando Va bene Facciamo lanciare Facciamo lanciare Deve stancarsi Il prima possibile Dai Dai 3-2 Benissimo Dai 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 No Va bene Va bene Scusate L'interruzione Allora 2 Uh Eh Però è cotta O forse no O forse no O forse no Shoe Oh Shoe Prendi Prendi sta copertina Shoe Prendi sta copertina Prendi sta copertina Shoe Prendi sta copertina Prendi sta copertina E Da 3 Home run da 3 punti 3 a 0 E a lei Signore E a lei E da E da Benissimo Adesso Lane Thomas Per 1 Per 1 Vabbè Prendi sta copertina Perché va Comunque Strike Va bene Calma Calmi 1-1 Ok Dai 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 Che ti può fare No Ho sbagliato 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 Tantissimo Sbagliato Tantissimo 1-2 Calma Calma 2-2 Ok Va bene Va bene Dai Ok 3-2 Benissimo Dai Dai Metà Metà stamina Gli abbiamo levato Sto Sto inning No Ma porca Mica Vabbè Niente Comunque Primo inning Ha una grandissima 3 punti fatti Già Primo inning La stamina Gli abbiamo levato Quasi metà Ha sprecato Quasi metà stamina Solo per questo Primo inning Ha la Grandissima Ha la grandissima Abbiamo Dato veramente Un gran duro colpo All'uomo copertina Qua Quindi Attenzione Che poi Saponetta Carter Carter Che boom E vabbè Uomo in prima base Ma così Oh Prima eliminato Dai Dai Strasburg Dai Strasburg Benissimo Vai Strasburg Qua Dai Via No 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 Dammi la challenge Dammi la challenge Dammi la challenge Era out Questo Era out Maledetto Sono uno Slarve Due Due Uno Ah Qua Così Due Di qua Tre due Vabbè Sempre Tre due Strasburg Non è che sta iniziando Voi bene 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 Io non vorrei Dittelo Ma Ok A posto Secondo eliminato E a lei Poi Di qua Già l'uno Dai Ora Carb No È uno Uno Non sta andando Un'ora Bellissimo Strasburg Però Ma Ok Uno Due Va bene Slarmo Fai Che Serata Sui piedi Non proprio Ma va bene Penny Lane Penny Lane Thomas E tu Va Serenamente Tu Va Finisce Premo Inica 3 a 0 Benissimo In gestito Alla Grandissima Alla Grandissima Credo Difficile E' la difficile Fare meglio Così A parte Vabbè Strasburg Insomma Non è stato Perfetto Ma vabbè Comunque Cabert Ruiz È la battuta Ok 1-0 Dai 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 Ammazziamo il morale Dell'uomo copertina Dai 2-0 Bene così Bene così Bene così Dai Cabert Cabert Mi sa che è corta Mi sa che è corta Vabbè Fa niente Prima del minuto Dai Fa niente Fa niente Dai Poi 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 Allora Stevenson Una battuta 0-1 Mi sembra Mi sembrava andasse via 0-1 Abbastanza Abbastanza Ball 1-1 Dai Dai 2-1 Benissimo Tira soprattutto fuori Alla zona di strike Vedo O almeno A momenti Vabbè Taveta Comunque strike 2-2 Va bene Calma Calmi Bravo lui Bravo lui Secondo eliminato Va bene Carter Kibumma Una battuta L'uomo Saponetta Riprima Nel primo inning 0-1 Poi Ah E' un pollo 0-2 Dobbiamo Stare calmi Battuta E No A foul Va bene Temper 0-2 Dai 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 E' un pollo Niente Secondo eliminato E Vabbè Terzo eliminato Scusate Infatti Di sbattuta Per noi In fase Siamo di Lancio Strasburg Ora Ora sta a te Devi fare Te Adesso La tua parte Ma in una situazione Di genere Mi ha chiamato Lo strike Perché Per loro Avevo odiato La mazza Comunque 1-2 Slarv Slarvala 1-2 Va bene 2-2 Va fanno niente Fanno niente Calma Calma Stiamo calmi Katie E' tua Seriamente tua Seriamente tua Primo eliminato Dai Bene così Bravo Donovan E adesso Dai 0-1 Benissimo Poi Chiamano Islarv E qua Questa è la strike L'arbitro 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 Simpatico Abbiamo Abbiamo L'arbitro Simpatico Vedo Vabbè Quello Fuori Vabbè E' Certo Come al solito Un altro caso In cui Mi bastava stare Dentro La zona Di strike Per eliminarlo 0-1 Intanto Primo strike Ok V1 E' Niente Solo 1 Ma fa niente Dai Comunque A me non è eliminato Dai Va benissimo Va benissimo Slarve Beh Vabbè Io ho mirato T'altra parte Ma ok Poi Foul Seriamente foul 0-2 Ok Foul Foul qua In faccia Per intimidirlo Dai Non letteralmente Non era Letteralmente Voluta La cosa Ecco Vabbè 2-2 Che direi Così Bravo 3-2 Eeeee Eeeh 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 Anche poi Anche grazie All'arbitro Simpatico Che chiama Di ball Che va bene Che va bene Che va bene Ovunque Dove stai tirando Strasburg Ti prego Vabbè però dai Che arbitro è Ma dai Che cosa chiama Qui qua Stevenson Serenamente tua Serenamente tua Vamo Fini il secondo inning 3 a 2 Fuoricampo loro non ci voleva Non ci voleva proprio Ricomincia il giro Luis Garcia ha la battuta 1-0 Devo stare calmo Deve stancarsi Deve portare a farlo stancare Probabilmente anche a farlo uscire Il prima possibile Tanto battuta E Prima eliminato E Vabbè Alcides Alcides Alla battuta Eh no Questa è il bagnante Comunque strike 0-1 Ok E Niente Secondo eliminato Stiamo avendo Stiamo avendo un po' di sfortuna Donovan Casey Alla battuta Adesso E Purtro l'assenza di sotto Si fa Sentire Si fa sentire L'assenza di sotto Bene Bene Molto 1-1 Ok calma Dobbiamo stare calmi E dai Che è in brava In brava centrale Non riesco a riconoscere le ste palle che scendono La faul 1-2 Calmi Stiamo molto calmi Ma questa mi sembrava che scendesse uguale come la prima Non è quella la che è Vabbè Niente E adesso Dai 0-1 Dai Strasburg Largo di qua 0-2 Ok Poi Oh che bello Finalmente mi danno quello più vicino Oh Prima eliminato Dai Dai Poi Serenamente tua Serenamente tua Secondo eliminato Dai Avanti signori Avanti Però che ci vogliamo sbrigare Ok Dai Qua Thomas Serenamente tua A posto Terzo eliminato Dai Finisce anche il terzo inning Rimane 3-2 come prima Bene così Josh è bella Ha battuto The bell Josh è bella Josh è bella Uuuuuh Poi La levetta in giù L'avevo Stavo iniziato in giù La levetta Perché non ha preso Vabbè Ok Va bene 0-2 Calmi Non stare calmo 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 A me queste Così me le hanno chiamate Bolle Due bolle così Me le hanno chiamate Ma vabbè Tesa Renandez Ha la battuta La battuta 0-1 Ora in giallo Ora in giallo Tani Battuta Mi sa che è corta Mi sa che è corta Secondo eliminato E vabbè Fa niente Dai Fa niente Fa niente Comunque lui Già è abbastanza Stanto Dai Allora Penny Lane Thomas Ray Thomas Ok Vabbè 0-1 Va bene Ok 0-1 1-1 Ok Dai 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 2-1 Benissimo Dai 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 Ok E' corto E' corto E' corto Quinto E' vabbè Nessun punto fatto anche al quarto inning Adesso Andiamo al lancio Con Strasburg Che oggi Non ci coglie Non ci Strasburg Oggi Non ci coglie Granché Strasburg Oggi Non ci coglie Granché E E questo E' questo Onestamente Mi preoccupa 2-1 Io ho scelto proprio lui 3-1 Non va bene Allora Strasburg 3-2 3-2 Slarve Facciamo così Vabbè 3-2 Ok Qua A posto Prima eliminato Poi Vai Strasburg Certo Abbiamo un ricevitore Ottimo Non mi sta pegando una Ci abbiamo anche ricevitore Che In cui casa base Che pare Incredibile Cioè Dai Dai Allora Circles I qua Grazie che ha girato la mazza 0-1 Sinker Intanto Buon Roberto Rosica Mi ha Mi ha dato indicazioni E attenzione Di tipi di tiro Io purtroppo Come traiettore Cosa Non è che li capisco Li riconosco molto E quindi Divento un po' Cioè Nel senso Mi ha Detto Fai le mire Mira In base Al tipo Di tiro Di pennecure Invece non mirare Proprio dove c'è il guantone Ma un po' più a denso Un po' più sinistro Il problema È che ho difficoltà A riconoscere queste traiettorie Come vanno In un modo Come nell'altro Quindi Vado un po' Intuito mio Ma magari Non ci colgo sempre Comunque Adesso Quinto inizia Inizia con una valida Inizia con una bella valida Inizia con una bella General Walsh Has been clutching At this midsection Allora Allora In questo momento General Walsh Ha riportato Clutching A midsection Alla parte mediana Tipo Al tronco Alla sezione mediana E Termini che vuole Deve essere Allora Praticamente Si è infortunato Nei loro Tipo Insezione mediana C'è il tronco Il petto Eccetera E deve essere sostituito Sì E questo E va bene Mi dispiace per loro Comunque Stevenson Una battuta 1-0 Dai 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 Stevenson Dai Stevenson Dai che è stanco 2-0 Benissimo Dai che è stanco Dai che è stanco Dai che è stanco 2-1 Vabbè Ti poteva lasciare andare Mi sembrava Sarri intanto Quello L'allenatore Non sapevo Io sapevo che allenasse Solo ragazzi Non pensavo Che allenasse pure I Los Angeles Angels Devo essere sincero Non Non lo sapevo Mi sembrava Sarri Lo voglio preciso Comunque 2-2 L'avevo visto di sfuggita Però comunque Allora Alla mammina Non è un animale Inesistente Vabbè Primo eliminato Non fa niente Primo o poi Lo devo sostituire Ah Otani Quindi Dai Dai Carter Keyboom Ok 1-0 Va bene Tranquilli Molto tranquilli Molto sereni Dai Eee Mi sa che è corta L'avevo Mi sembra buona Per battere E quindi niente Va bene Luis Garcia Ricomincia il giro Luis Garcia E niente E niente Niente Ci ha battito Non ci In battuta Non ci colgo Eeeh Descorre Ah Giustare strategicamente In qualche modo Le cose A volte Problema In battuta Non ci colgo Ci colgo E se facciamo Gara a chi ci coglie meno Tra me in battuta E Strasburg Gallancio Eeeh Eeeh Pochino Preto Eeeh 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 A volo A posto Primo eliminato Eeeh 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 Adesso Eeeh Eeeh Adesso Eeeh Eeeh Centrale Centrale Proprio Miro Centralissimo Centralissimo Anche così 3-2 Madre Santissima Eeeh Eeeh Centrale Di nuovo Oh Carter Ok Secondo eliminato Mamma C'è Invece Riprende La stoppata Di petto Capito Per un attimo Pensava di essere Maldini Carter Tipo Eeeh Eeeh Certo Punto Eeeh Che Va bene 3-3 Fini nel quinto inning Fuori di campo Di Tyler Wade E cambia Nel lanciatore Jenny Barria Ora Vediamo Com'è Questo Certo La continuzione Un po' Al minimo Vediamo Il palcides Eeeh Per uno Una calma Una calma Zero Due Eeeh Eeeh Vabbè Tira un po' Più Primo due Va bene E qua Che buttina E che Pascoli Primo eliminato Vabbè Ah Donovan Casey Donovan Casey Temperarbitro molto simpatico Che chiama strike Sta palla Vabbè Grazie 1-1 Non è stato Per chiamare strike Anche questa Eh 2-1 Ok Stiamo calmi Oh E la prende al mondo Caniseria Vabbè Secondo eliminato Josh e Bell Josh e Bell Eeeh Vabbè Zero Uno Merierli Eeeh Zero Due Vabbè Comunque Entrambi Strike Quindi Cambia poco 1-2 Ok Josh Sì però Io ho premuto giù Con la levetta Perché non mi ha preso Il comando E dai Vabbè Strasburg Strasburg Te prego Strasburg Ti sconduro Meno male Che ha girato La mazza Zero Due Slarb Slarb E' sempre La mira deviata E' sempre Siamo sempre Qui Stolzini Allora Stevenson E' tua Serenamente tua Serenamente Tua A posto Primo eliminato Dai Dai Aiaiaiai Come sarà dura Stapattita Come sarà Difile Poi se c'è Se c'è L'arbitraggio Così Simpatico Vabbè 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 Noto che Noto che Strasburg In giallo E allora Io direi 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 Espino Warm up Perché qua C'è bisogno Di tutti Harris Sta perdendo Punti Overall E' In calo Verticale 1 2 Ok Poi Sinker Dai Oh Secondo eliminato Dai 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 Adesso Riusciamo Salve Se riesci A Chiudere Sto ending Ah Dai Poi magari Vediamo Ti fa rivolare un po' Eh Vai Strasburg Va bene 1 2 Ok Slav però Troppe slav Eh Troppe slav Troppe slav Però Sembrano che Questa è l'ultima Sembrano che In altra volta Se mi proponi No La slav Cambio Slav Il cazzo No No Io invece tiro là No Non posso fare sempre slav No 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 Va bene Fa niente Adesso L'hai capito Che bisogna cambiare Bene Chiudiamo il sesto inning 3 a 3 Meno male Meno male E adesso Cesar Hernandez Cesar Hernandez Cesar Hernandez Alla battuta Ma 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 Il good Il corno Però io Vabbè Primo eliminato Dono Lane Thomas Alla battuta Lane Thomas Late 0-1 Ma Ok 1-1 Va bene Poi Era Paul Port 1-2 Calma Devo stare Devo stare Kerbert Kerbert No Vabbè Niente Chiudi anche il set Winning Non ti chiude di male In page Provo a far iniziare Strasburg Perché Per ora va Non va più Non va più Non va più Non va più Perfetto 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 Allora Bullpen Espino Putting game Vai Espino E Bullpen Mi metto No Salve Signor Thompson Si va da riscaldare Non ci sa mai Allora Carve Espino Non è Cominciamo Buono Espino Non Cominciamo Bene Espino Dai Espino Vabbè 1-0-2 Vabbè Nella qualche maniera Espino In faccia per intimidirlo Espino Ah Abbiamo già Per far il volo Ok Va bene Primo eliminato Dai E qua c'è Wade Quello Quello Il volo Il volo Colicampo Questo Bella No 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 Era anche colpa mia L'errore L'errore di posizione Però Porca miseria Perché i miei Giocatori Dovano avere le mani A saponetta E 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 4-3 4-3 Signori E noi non riusciamo a fare punti Non sono in vantaggio Dobbiamo fare punti E non siamo in grado di farle Finita Sì raga Però davvero 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 State dicendo Dai Dai Noi Frigoti 5-3 Ragazzi No Senza parole No No Non ho parole Non ho parole Che ti sbrighi cortesemente eliminiamo anche l'altro No Mamma mia Ma veramente io sono sensato a Thomas Ce la fai? Oh grazie L'abbiamo perso E' perso Non li facciamo 4 punti Non li facciamo 4 punti Non c'è mica Senza sotto Senza titolari Non lo facciamo Sì non c'è una battuta Eh sì Eh vabbè Ok Andiamo vabbè No Sì Vabbè è una valida No Eh vabbè Carter Kibum ha la battuta 0-1 Alla fine Alla fine Alla fine L'uomo copertino E' stato un non fattore L'uomo copertino E' stato un non fattore Ci siamo Avevamo Avevamo gestito perfettamente I suoi turni in lancio Quasi perfettamente Ci siamo complicati la vita Vabbè Eh vabbè Eh ma fermati Fermati che qua Fermati che qua Vabbè Cambio lanciatore Aaron loop Aaron loop Tira Mediamente Lento Vieni 0-4 Poi tira Ma tira anche strambo 0-1 Mamma mia 0-2 Tira strambo 0-2 1 0-2 Devo stare calmo E' ancora un certo eliminato Cercare di leggerlo Di capirlo un po' Ma no Ma no Ma no Ma no Ma no Vabbè Vabbè Niente Primo eliminato Vabbè Non lo capisco 0-1 Calmo Non stare calmo Vabbè Eh che Q Vabbè 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 Donovan Casey 1-0 Vabbè Poi E poi E vabbè Sono senza parole Io Non ho parole Per descrivere La partita Che abbiamo Buttato Non ho parole Per descrivere La partita Che abbiamo Letteralmente Buttato E buttato Guarda qui Tutti a dormire Tutti a dormire Io Io Dico La palla Gli passa accanto E la guardano Come si guarda Un treno Che passa Io 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 A volte Odio Sofondo Sono senza parole Sono senza parole Abbiamo buttato Una partita Ma neanche il lanciatore È il problema È proprio la fase di riflessione Hanno dormito tutti Hanno dormito tutti 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 in dormiveia Tutti È uno È un divinato Vediamo C'è da chiudere La partita La prima possibile Non ha Non ha più Non ha più nulla La tira 9-3 Non Sì Peach che ti intagli È tua sorella Che ti intagli 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 Veramente Poi Get in tired Pincere adesso Che c'ha A tre quarti di stamina Get in tired Porca miseria Ma va in miniera Va in miniera Porca miseria Ti sta stancaggiare adesso A tre quarti di stamina Vai in miniera Vai in miniera Mandatelo in miniera Che ti intagli In miniera Yoshi è bella La partita Come questo No zero Questo è un altro Che Un altro che lancia Che lancia sgambo Lancia sano Vabbè Niente Come Per tirare forte Come piano Vabbè Io gli ho regalato Due strike pure Vabbè Vabbè Grazie arbitro 2-2 Questo non l'alza mai Non l'alza mai 3-2 Adesso Comincerà ad alzare La metterla un po' più centrale Sempre 3-2 Non so veramente Che dire Ma bec Era bollo Fammi Oh Ok Vai Josh Non so Eeeh Base regalata E' quello che fosse Di ragazzi 6 punti E' un minuto solo Come recupero Tenza sotto 0-1 Poi Eccolo Avebbe stato Un due strike 0-2 Vabbè Ha finito Di lancia sgambo Vabbè Vabbè Prima eliminato Allora Allora Pegli nei Thomas Poi Comincio a Terle tutte In zona Di strike 0-1 Vabbè 0-2 0-2 Meri late Bene Bene 0-2 Eeeh Vabbè Eeeh Battista Sarebbe bella Ma Non lo è abbastanza Infatti Vabbè Eeeh Secondo eliminato Kaypert Ruiz Kaypert E fa un cross 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 Ah Dalle vetta Versi sinistra Sinistra Prendi Lo sto comando Destra Comunque Vabbè Sempre 0-2 Pazzo Pazzo Finisce così Eeeh Che altro dire Che altro dire Abbiamo buttato una partita Abbiamo letteralmente Buttato una partita Eeeh Questo E questo è quanto Eeeh Abbiamo perso Anche Questa Vediamo un po' A calendare Come siamo messi Come siamo messi A caratteristica Allora Adesso Siamo a parità di partite Ma a parità di partite Siamo Sopra di due Sopra di due A parità di partite Io onestamente Comincerei Comincerei a dare un'occhiata Anche Anche Alla wildcard I pad Eeeh Noi Noi Siamo A 22 A 13 Saremmo Con wildcard Saremmo sopra i padres Saremmo sopra i padres Doveva cominciare a dare Sopra Sopra un'occhiata Perché Perché Il rischio Di doverci Giocare a wildcard Adesso c'è Adesso c'è Detto questo signori Noi Ci salutiamo qua E ci vediamo potente Alla prossima Ciao